Limiti invisibili ma invalicabili, piccole e grandi barriere urbane, burocratiche. Noi di Rete Venete iniziamo sempre da voi, dai cittadini e portiamo la vostra voce alle autorità competenti. Ma c'è un popolo che ogni giorno vive e lavora superando ostacoli invisibili per molti, ma enormi per qualcuno. Per questo avevamo raccolto le istanze dei non udenti che usano la lingua dei segni per connettersi con il resto del mondo. A spiegarci i loro problemi quotidiani era stato Luca Sinico, presidente dell'ente nazionale Sordi di Vicenza, che con la sua brava traduttrice aveva lanciato un appello al comune di Vicenza. È chiaro che se una persona sorda ha bisogno di comunicare con qualche referente dell'ufficio pubblico sarebbe opportuno fissare un appuntamento e in questo caso viene chiamata l'interprete per quel giorno che c'è, quell'incontro, quell'appuntamento, dove lui ha bisogno di comunicare con un referente dell'ufficio pubblico. Finora queste cose non vengono organizzate, non si fanno, quindi cerchiamo di non rimanere fermi. E noi di Rete Veneta non siamo rimasti fermi. Serve un interprete della lingua dei segni per consentire ai non udenti di comunicare con gli uffici pubblici. Portiamo questa istanza al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Io faccio mia la richiesta dell'ente nazionale Sordi attraverso Rete Veneta che ringrazio per aver attenzionato questo problema che cercheremo magari di risolvere studiando un servizio apposito all'interno dell'amministrazione comunale, chiaramente su organizzazione di un appuntamento che potrà favorire l'accesso quindi ai sordi anche negli uffici comunali e trovare una persona che possa fare da intermediario rispetto alle istanze che si presentano in comune. Questo l'impegno che oggi assume Francesco Rucco. Bene, ringraziamo il sindaco e attendiamo che venga istituito un servizio apposito che consenta ai non udenti di comunicare con gli uffici pubblici grazie a un interprete nella lingua dei segni. Quindi la questione non finisce qui ma continua.